Oggi i meccanismi del coordinamento sono ben delineati dalla legge 234 del 2012 che stabilisce le procedure per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea tenendo conto tanto delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona quanto delle prassi applicativi avviate dal Parlamento e dalle Regioni. La legge pone le condizioni per un rafforzamento del sistema Paese ma la sua piena attuazione richiede la consapevolezza da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti della complessità del processo decisionale europeo e della necessità di agire al suo interno come sistema. Va ricordato che grazie al Trattato di Lisbona i Parlamenti nazionali sono entrati a pieno titolo nel processo legislativo europeo potendo adottare pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione. Questa partecipazione va ben oltre il mero controllo di sussidiarietà prendosi di fatto a un confronto complessivo con le istituzioni europee sul merito delle proposte. La legge 234 riconosce il ruolo dell'Assemblea Legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome tanto ai fini della verifica di sussidiarietà che per il dialogo politico. Tuttavia il contributo delle Assemblee Legislative così come pure quello degli enti locali non ha ancora acquistato quella dimensione sistematica e uniforme che ci auspichiamo e indebolendo così la rappresentanza dei territori in Europa. E quindi appare oggi indispensabile consolidare l'impegno delle istituzioni territoriali e il loro dialogo col Parlamento con l'obiettivo di costruire una partecipazione forte e consapevole al processo decisionale europeo. E non mi riferisco solo al coinvolgimento delle Assemblee regionali nel controllo di sussidiarietà ma anche e soprattutto ai contributi sul merito degli atti dell'Unione. Le Assemblee Legislative regionali sono in grado di fornire elementi indispensabili per la valutazione delle proposte legislative europee che possono acquisire anche per il tramite dei pareri e delle risoluzioni parlamentari un peso decisivo nella interlocuzione con il Governo, con la Commissione europea, con il Parlamento europeo.